Oddio, ci sono i... Gli aliman? Ah, le cacce? Iniziano così le cacce, vengono introdotte così? Oh, bersagli ricercati! Di tanto in tanto Clive può incontrare creature più grandi, più veloci e più forti di altre. Configgere questi nemici può fargli ottenere non solo fama, ma anche materiali rari, che possono essere utilizzati per creare nuovi equipaggiamenti o migliorare quelli esistenti. Si possono ottenere maggiori informazioni sui bersagli ricercati parlando con il muguri del rifugio Nektar. Del rifugio Nektar, che sarebbe il nome del muguri, il quale flutto davanti alla bacheca di caccia del rifugio. Ah, sì! L'Aliman! Quindi lui potrebbe evocare sentenza, eh? Facciamo attenzione! Eccola! Madonna mia! Vedi, hanno il simbolo del ricercato, come su Final Fantasy XII, che c'hanno le cipolle. C'ha la cipolla in testa, tipo. C'è tipo il richiamo di Final Fantasy XII con le cipolle. Ah, vedi, condanna! Oh oh! E' forte, però, eh! Se sono così ricercati, ci divertiamo. No! 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 E gli ha fatto condanna Per un'altra volta Quindi secondo me se le riesce a fare tutte Condanne E' tipo sentenza Se riesce a fare tutte e quattro le condanne Mi sciotta Però non ce l'ha fatta Quindi va bene così Però hanno introdotto le cacce finalmente Oddio che brutto però Per un'altra volta